Buongiorno a tutti. Ma ha letto il coscritto ieri poi? Chi? Senti. Un premio di Londra. Uh, ma come la... E' che è il giro di Londra. E' che è il giro che ha visto l'allenatore con la panchina, che ha buttato a chi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.